Ciao a tutti amici on Preverse e benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare ci tengo a dirvi che il video di apertura della stagione, quello dedicato all'Imperial Stout, è andato molto bene. È piaciuto molto, ha avuto molte interazioni ed è schizzato in vetta alle statistiche del canale. Quindi ho deciso di sfruttare questa ondata positiva e continuare con questo format, anche se a dire il vero per oggi avevo altri programmi. In questo video parleremo delle Porter e in particolare dello stile 9C, denominato Baltic Porter. Tutto questo dopo la sigla. La storia delle Porter nasce tra la foschia dei bassifondi della Londra vittoriana e per certi versi la sua genesi è stata anche fin troppo romanzata. Per i nostri scopici basta sapere che in principio esistevano solo le Porter, che erano sicuramente le birre più popolari del periodo, e le Stout esistevano come esemplari più forti delle Porter stesse, che venivano chiamate appunto Stout Porter. Al giorno d'oggi non è semplicissimo distinguere tra una Porter e una Stout. Del resto stiamo parlando di stili cugini, che spesso e volentieri vengono anche stravolti dai birrifici, e questo non fa nient'altro che affievolire ancora di più il confine tra loro. Ma sotto sotto le Porter si differenziano proprio per un piccolissimo dettaglio che ad un pallato superficiale potrebbe passare inosservato, ovvero il tostato. A farci compagnia oggi abbiamo Sleepless Night, una Imperial Porter prodotta dal birrificio Eastside, una sorta di pocket coffee liquido che mi è stato inviato da Cantina della Birra, che ha deciso di supportare questo format. Da premettere che questa non è affatto una Baltic Porter, però c'è anche da dire che nel BJCP non esiste lo stile Imperial Porter, per cui sicuramente non la prenderemo come riferimento accademico per lo stile, ma la utilizzeremo semplicemente per farci compagnia durante questa chiacchierata. Molto interessante come birra. È stata abbrassata col caffè e si sente tutto, ma non è eccessivamente amara, anzi è molto rossata. Il corpo è medio, medio, medio alto. Leggo che c'è anche dell'avena tra gli ingredienti, quindi questo sicuramente ha contribuito a questa pienezza. In realtà ci sento anche una certa dolcezza derivante dalla parte maltata e dai malti caramello eventualmente utilizzati. Ma parliamo proprio del tostato. Sebbene la maggior parte degli stili Porter e Stout siano confrontabili in quanto a corpo, alcol o ingredienti, in realtà le Porter si differenziano proprio per quel carattere non apertamente tostato che dà una maggiore libertà di movimento ai sentori derivanti dagli altri malti scuri utilizzati. Non dimentichiamo che le Porter erano prodotte storicamente col malto brown, che dà sì degli aromi tostati, ma non come un roasted barley, per intenderci. Parlando proprio del brown vi dico da subito che io non preferisco utilizzarlo perché lo trovo troppo amaro per i miei gusti e di solito lo sostituisco con altri malti scuri. Ma procediamo con ordine. Baltic Porter è il più forte dei quattro stili presenti nel BJCP ed è l'unico dei quattro ad essere brassato tradizionalmente con un ceppo a bassa fermentazione. Questo aumenta ovviamente la difficoltà di esecuzione di questo stile, ma di questa cosa ne parleremo alla fine di questo video. Parliamo invece del grist. Parto col mio solito malto pilsner, affiancato stavolta con un dark munich in una proporzione di 2 a 1. Questo ci garantisce di partire da una buona base maltata. Io di solito aggiungo anche una piccola percentuale di frumento. Non è obbligatoria, ma a me piace la complessità che viene aggiunta. Diciamo una proporzione intorno al 10%. Veniamo ai malti caramello. Io utilizzo come per le stout di solito due malti caramello. Uno intorno ai 120-130 BC e un altro intorno ai 250 per aggiungere un po' di sentori toffi. In base a quanto mi sento da marro posso decidere di utilizzare un caramunich al posto del crystal, diciamo in una proporzione intorno al 7-8%, che è un malto caramello, ma aggiunge sentori tipo melassa o prugna, che in una porter sono auspicabili, per poi ad andare ad aggiungere una percentuale più piccola, intorno al 5%, di Special B. Andremo a concludere con una cinquantina di grammi di malto black, giusto per dare colore, qualora dovesse sembrarci troppo chiara. Il mesh lo tengo alto, intorno ai 68 gradi, single step, come tutte le mie birre, per un'ora. I malti scuri come lo Special B o il black potete anche aggiungerli alla fine, in modo tale da evitare di incorrere in quella fastidiosa stringenza da malti scuri. Per quanto riguarda l'acqua, io di solito quando brasso le porter utilizzo un trucchetto. Ovvero, taglio l'acqua che uso di solito, la Sant'Anna o la Blues, con un'altra acqua più ricca di bicarbonati, per elevare un pochettino l'alcalinità. Questo mi permette di avere già in partenza un profilo ottimale, senza dover raggiungere troppi sali. Per effettuare il calcolo, uso il tool presente sul mio portale, inserendo le informazioni delle due acque, per poi decidere la percentuale di miscelamento. Dopodiché mi salvo il risultato su Brewfather. L'idea comunque è quella di avere un profilo orientato al malto, proprio per porre l'accento su quel genere di sentori. Per la stessa ragione non vado a scegliere un luppolo con un amaro affilato, tenendomi intorno a un rapporto BU-GU intorno a 0,4. Potrà sembrarvi poco, ma in realtà, guardando le statistiche per questo stile, è proprio lì che dovremmo trovarci. Per quanto riguarda quali luppoli usare, secondo me avete due scelte. O usate luppoli inglesi, come il Challenger o il Nord Down, facendo attenzione a non utilizzare il Target, perché secondo me è un amaro troppo affilato, oppure scegliete luppoli continentali. Io ad esempio utilizzo Magnum d'amaro e Tetrang in sapore e aroma. Questi due luppoli, tedeschi tra l'altro, secondo me possono rappresentare una bella scoperta, soprattutto il Tetrang che è leggermente speziato e con questo stile, secondo me, può funzionare. Siamo arrivati alla parte più complicata, il lievito. Come vi dicevo all'inizio del video, le Porter sono brassate tradizionalmente con ceppi Lager. Ovviamente nulla vi vieta di brassare la vostra prima Baltic Porter con un ceppo Ale molto attenuante, tenendolo però al guinzaglio con la temperatura. Ma volendo fare le cose per bene, ci tocca usare un ceppo a bassa. Per i secchi esiste una sola scelta, il 34-70 della Fermentis, mentre per i liquidi, come è ovvio, esiste l'imbarazzo della scelta. Però io, considerando la densità elevata e considerando anche il fatto che non ho pazienza, propenderei per un ceppo Lager in crema, come l'LG37 della Tecnos. Ne comprate due o tre confezioni da 50 grammi, come questa, e le inserite direttamente in fermentatore senza fare starter né altre cose strane. Con i Patron discutiamo spesso di questa tipologia di lieviti e per loro esiste una convenzione, proprio con la Tecnos. Trovate, come al solito, tutto in descrizione. Bene amici and preverse, anche per oggi dallo Sgabuzen è tutto. Spero che questo video ovviamente vi sia piaciuto e nel caso fatemelo sapere con un like. Spero di aver chiarito tutti i vostri dubbi riguardo lo stile Baltic Porter. Nel caso, ovviamente, non esitate a lasciarmi un commento qui sotto. Commentate anche per farmi sapere quali vorreste che fossero i prossimi video di questo format e io ovviamente cercherò di accontentare tutti. Prima di salutarvi io vi invito ad iscrivervi a questo canale, qualora non siate ancora iscritti, e a cliccare sulla campanellina per non perdere tutti i miei aggiornamenti. Vi invito anche ad entrare a far parte della mia community su Patreon, composta ad oggi da più di 150 persone e in cui organizziamo tante attività simpatiche. Trovate tutto in descrizione. Noi ci vediamo, come al solito, fra due venerdì. Ciao, un preverse! Ciao, un preverse!